Tutto molto dipende dai risultati, Antonio più volte ha detto che la squadra non era competitiva, che la squadra aveva bisogno comunque di tempo, competitiva quantomeno per lottare per i primi quattro posti e devo dire che denoto anch'io un certo malcontento da parte di Antonio, quindi credo che la sua vettura in Inghilterra al Tottenham sia al termine. E immagino che lui abbia una grande voglia di tornare anche verso casa perché l'ha detto, l'ha testimoniato, credo che anche i suoi problemi di salute dell'ultimo periodo non aiutano a stare lontano, lontano dai propri affetti dalla famiglia. E quindi un ritorno di Antonio lo vedo più che probabile e credo se le due squadre fossero Juve e Inter, credo di più eventualmente Antonio nuovamente in nero-azzurro che in bianco-nero.